Ciao, ti sei mai chiesto come siano nati i sette nomi delle note musicali? Ovviamente scudendo i diesi sei bemolle. Ora te lo spiego. Quella che vedi qua davanti è l'abbazia di Pomposa. Siamo nella provincia di Ferrara vicino al confine col Veneto. Tra gli abbati più importanti figura Guido d'Arezzo, che è stato abbate dal 1008 al 1046. Ha avuto la geniale idea di inventare i nomi delle sette note musicali prendendo le sillabe iniziali di ogni verso dell'inno di San Giovanni di Paolo Diacono. Ora ve lo provo a recitare. Un ultimo particolare, ut poi diventa do. Grazie all'intervento del musicologo Giovanni Battista Doni.